Ciao, mi chiamo Loris e al momento mi trovo a Tokyo, dove vivo e lavoro. Sono partito anch'io con Intercultura 12 anni fa per un programma annuale in Finlandia. È stata un'esperienza che mi ha letteralmente cambiato la vita. Non potrò mai dimenticare la mia gratitudine nei confronti di Intercultura e soprattutto nei confronti della borsa di studio che mi ha permesso di partecipare al Blue Cloud.